Musica Abbiamo preparato dei tacos con delle tortillas fatte con una farina integrale e poi tutti i condimenti, una guancia abrasata all'olio extravergine di oliva e poi dei fagioli di Tex-Mex e abbiamo chiamato un pezzo tacos mettendo dei sapori di cortina che sono le cipolle di cortina abrasate nel vino rosso e poi una salsa agrodolce di rapa rossa